E da poco si sono chiusi i riflettori sull'undicesimo Festival Armistra Rocca, è stato un grandissimo successo quest'anno di pubblico e grandissimi momenti di musica, come non ricordare il concerto d'apertura del maestro Baris Petroshansky e la Augusto Polish Symphony Orchestra diretta da Marek Moss con bellissima esecuzione del quarto di Beethoven, come non ricordare le varie performance e i bellissimi appuntamenti mattutini con il cappuccino ben temperato, venuti da Fabio Larovere, Luciano Bertoli e Sirin Len, e l'ultima giornata anche dal primo accadente. In qualità di direttore artistico non posso fare che ringraziare il pubblico che c'è stato vicino e così numeroso, con queste bellissime giornate d'estate, in questo luogo incantevole che è Manerba, e voi avete già visto un po' il telegiornale, avete visto un po' i video che abbiamo messo sul nostro sito, però ci tenevamo a ringraziarvi, perché il pubblico è stato tanto, è stato straordinario come sempre, è uno dei nostri veri protagonisti, per cui un appuntamento all'anno 21, vi aspettiamo per la 12esima edizione del Festival Armistra Rocca, ci saranno altre sorprese e vi aspettiamo come sempre in tanti. Ciao ragazzi, e tornate sul sito perché continueremo a dare contributi per i festi. Ciao!